Ciao e benvenuti a Ronfittimoria.com Questa sera vi preparerò un'insalata davvero strepitosa, davvero ricca! Un'insalata natalizia! Vediamo subito con il tagliare della normalissima insalata lattuga romana Quello che voi preferite A me non piace tagliarla fine perché guardate cosa faccio Altrimenti andiamo a rovinare tutta la clorofilla che c'è dentro la foglia Quindi ho solamente un piccolo taglio centrale E poi l'insostituibile kale La cosiddetta kale che comunque in Italia è la cena di rapa Tagliatela finalmente mi raccomando Perché la foglia è un po' più duretta Non è come l'insalata Ma sapete benissimo abbiamo parlato altre volte di come sia straordinaria Le virtù incredibili Quindi è un superfood davvero della kale Delle cime di rapa Quindi volta in realtà molto 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 finemente E poi io veramente quasi in ogni insalata aggiungo le cime di rapa e le kale Perché? Perché sono un grandissimo antitumorale Sono ricche, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo Di vitamina C, vitamina K Quindi attenzione per chi assume il comedy or warfare E poi aggiungiamo Giusto perché fa sempre bene Di intossicarsi Mezzo gambo di sedano A me piace tantissimo il sedano Quindi E soprattutto per chi ha bisogno di perdere peso Sedano e pinocchio sono straordinari Eccoci qua E adesso cosa aggiungiamo Aggiungiamo un cipollotto Altrimenti se non c'è un cipollotto O la cipolla Io non mangio l'insalata Sono veramente viziata in questo Perché Mangiare l'oro non vuol dire Mangiare crudo Che non Non dobbiamo Lasciarci andare al gusto Al palato Anzi Esaltiamo il palato E quindi Tutti questi Bellissimi doni Che la natura ci dà Vengono esaltati E qua aggiungiamo Una bella Mezzo peperone Guardate che meravigliosa Che bei colori Davvero davvero bella Per questo Fancy salad E poi l'arancio E poi la mela Altrimenti mio figlio non la mangia Oramai le ho abituati bene Poi diamo dei buchetti Facciamo dei buchi Al nostro Incidiamo un pochettino Uno spicchio d'aglio Oramai i miei figli Soprattutto il mio figlio Se non faccio un'insalata ricca Non la mangia E poi guardate com'è bello Il melograno Fantastico Davvero davvero fantastico Mi raccomando anche sia il juice Che i frullati Aggiungete il melograno Guardate com'è bello Davvero davvero bellissima E poi diamo il tocco di grazia Con delle noci Perché sì che anche nelle Che nelle Cine di rapa Ci sono le proteine Sì sì Non sto sbagliando Le proteine Qualcuno Come le vitamine Ma anche le proteine Sì Ma con le noci Veramente Divento un'insalata Ricca e deliziosa Stupenda Poi a me piace condirla Con il mio dressing La mia Il mio condimentino È Olio D'oliva Ovviamente Extravergine Spremitura Freddo Poi sale Il malayano Rosa E a me piace Il limone Spremito Che non vedo qua L'arrivo portato Sono sicura Ma Facciamo così Ecco qua Bacchino In bocca Che buona Poi comunque Vedrete che impareremo Altri dressing Insieme Questo qua è classico Il nostro italiano Che secondo me Non guasta mai Soprattutto Esalta A me piace anche tanto Il succo di arancio Col coriambolo Col cilantro Ragazzi Fantastica Davvero Natalizia E adesso E adesso La parte Che più preferisco Quella Dell'assaggio Buon 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 Buonissima Mi raccomando Provate questa risotta Fantastica Visitate Row50maria.com Ciao Aguri